Buongiorno a tutti, oggi vogliamo festeggiare con noi, con voi, i nostri primi centro iscritti i primi centro iscritti del rifugio del funghetto, con questa bellissima torta con un bel centro davanti che l'alice soffierà, quindi continuate a seguirci perché abbiamo in progetto di fare tantissimi altri video e l'alice sta diventando babbona, condivideteli e poi? e poi niente, spengiamo le candeline va bene, facciamole spengere l'alice che ha imparato a soffiare al 3, al 3, si fa? si soffia? 1, 2, 3 va bene lì, la prossima volta andrà meglio ora noi ci mangiamo la torta, grazie a tutti e continuate a seguirci ce la mangiamo alla faccia vostra grazie a tutti